Se state avendo un problema riguardo a un errore che si chiama direttamente l'errore Windows Update 0x800f0825 ho fatto anche altri tutorial su come risolvere questi errori qua riguardo a Windows Update quindi in questo caso andremo prima a vedere se ci sono dei file danneggiati sul nostro sistema e Windows poi andrà a ripristinarli, ad aggiustarli e a farli funzionare come prima e riprovare così con la verifica di disponibilità aggiornamenti quindi verifica disponibilità aggiornamenti una volta aggiustati quei file danneggiati sul nostro sistema quindi andiamo un attimo sul nostro cmd prompt dei comandi e esegui come amministratore e facciamo sì una volta fatto vai a scrivere un attimo sfc spazio slash scanno per verificare se ci sono dei file danneggiati come ho detto Windows dovrà ripristinarli quindi dobbiamo solamente aspettare l'operazione mentre fa così la riparazione e l'avvio in corso della fase di verifica per dirti che io Windows Update l'ho aggiornato scaricando e installando di nuovo Windows 11 versione 24 h2 mantenendo così tutti i miei file sul sistema e quindi in passato poi ho realizzato un video su come scaricare così la versione 24 h2 che ti ho lasciato anche nei commenti in primo piano ho scaricato e installato l'ISO quindi i file l'ISO ho installato Windows 11 con la versione 24 h2 e poi dopo quando mi si è riavviato più volte il sistema sono andato su disponibilità aggiornamenti e come puoi vedere qui c'è scritto versione 24 h2 che l'ho scaricata l'ho installato e poi una volta fatto ho riavviato il sistema quindi se tu riscontri sempre questi problemi di errori su Windows Update ti consiglio di scaricare e installare la versione Windows 11 quindi questo è Windows 11 crea Windows 11 installation media questo qua devi scaricare puoi anche guardare la guida su come procedere oppure se vuoi passare direttamente a Windows 10 e non avere più problemi di aggiornamenti o problemi alle performance sui giochi ti consiglio di nuovo Windows 10 quindi come puoi vedere ha trovato dei file danneggiati e li ha pure ripristinati una volta fatto puoi semplicemente scrivere qua EXIT ora andiamo così a creare un nuovo documento di testo clicco il documento di testo vado a prendere tutto quello che ti ho lasciato in descrizione da NETSTOPBITS fino a NETSTART vado a copiare così questo comando lo inserisco qua faccio file, faccio salva con nome metto tutti i file e qua vado a scrivere fix.bat andrà così a scaricare automaticamente tutti questi aggiornamenti che bisogna fare sul sistema, gli ultimi aggiornamenti lasciati fix.bat e faccio salva ti apparirà così questo comando .bat ci clicco sopra faccio sì e faccio invio i servizi seguenti dipendono dal servizio fix e di crottografia quindi arrestando il servizio servizi di crottografia si arresteranno anche questi servizi avast, antivirus, identità applicazione ma tanto poi andrà ad arrestarli e poi a ripristinarli e poi ad avviarli di nuovo una volta fatto riprova di nuovo su verifica disponibilità aggiornamenti chiudiamo un attimo qua vado su windows update cerco di aggiornamenti in corso ovviamente se tu scarichi gli aggiornamenti e non te li fa installare puoi semplicemente ripristinare l'aggiornamento facendo sul disco locale c windows vai su software distribution ed eccolo qua la cartella software distribution qui dovevano anche scaricati tutti gli aggiornamenti e tu li puoi cancellare e riprovare di nuovo a scaricarli una volta fatto puoi anche chiudere qua descrizione ti ho lasciato anche il comando per powershield per fare un ripristino dell'immagine sul disco fai copia e vai a scrivere qua sopra powershield però windows powershield lo devi avviare come amministratore se no non funziona windows powershield esegui come amministratore incolli il comando che ti ho lasciato e fai invio strumento gestione manutenzione immagini distribuzione e aspettiamo mentre fa così la verifica quello che posso anche consigliarti è se non riesci a scaricarli e installarli automaticamente potresti farlo manualmente attraverso il catalogo di windows update microsoft update catalogo vai direttamente sugli aggiornamenti che devi fare quindi windows update cronologia degli aggiornamenti anche se ti esce l'errore ma ti uscirà anche l'aggiornamento che devi fare quindi vado così a prendere questo aggiornamento faccio copia lo vado a mettere qua e faccio ricerca ed eccolo qua sistema per 64 questo qua windows 11 versione 24 h2 dimensione 836 megabyte clicchi qua sopra download installi così questi due aggiornamenti io non li posso installare perché ho già installato questo aggiornamento e mi dice anche installazione di uscita e faccio chiudi se il servizio è arrestato sui servizi qua scrivi qua sopra servizi scendi fino a giù fino a trovare windows update ed eccolo qua lo stato del servizio è in esecuzione se io adesso vado un attimo a chiudere qua faccio un attimo interrompi stato del servizio è arrestato avvia avvia così il servizio tipo di avvio metti manuale e fai applica e fai ok qui ha fatto così l'operazione di ripristino riuscita chiudiamo qua facendo exit e fai invio quindi ogni volta che riscontri questi problemi qua puoi semplicemente usare questi metodi quindi i comandi te li ho lasciati in descrizione c'è il link del catalogo di windows update in descrizione quindi se hai problemi puoi commentare sotto al video oppure guardare la guida puoi guardare così la guida su come scaricare e installare windows 11 versione 24 h2 senza nessun problema e basta quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao